Operazione Sport In collaborazione con Amiche e amici di Operazione Sport ben ritrovati ancora una volta al nostro consueto appuntamento dedicato al mondo del calcio dilettantistico oggi puntata particolare perché andremo a capire quelle che sono state le emozioni di questa domenica appena trascorsa tra playoff e playout andremo poi anche a vedere, ad accennare gli altri playoff delle altre categorie in particolare di Serie D e promozione ma ci soffermeremo in particolare su eccellenza e prima categoria lo faremo con i nostri ospiti per ciò che riguarda l'eccellenza calabrese e il playout tra Conigliano e Sambiase è tornato a trovarci uno dei protagonisti del playout giocato appunto domenica Antonio Carrozza che salutiamo Ciao Antonio Buonasera E per invece l'Astra Cittadina playoff di prima categoria girone A il direttore della formazione bizantina della rossanese che ha vinto di misura sul città di Rossano Enzo Rago Buonasera Andiamo con ordine perché qui va un po' riavvolto il nastro anche se noi lo spostiamo Antonio al minuto numero 94 20 secondi dalla fine il Corigliano era praticamente retrocesso quando all'improvviso Capitano Granata si è così inventato un gol diciamo anche ha scaraventato una palla ben protetta da Calomino e il Corigliano è ritornato a sperare nella salvezza perché poi ci sono stati i playout i supplementari che hanno offerto altre emozioni a mente così fredda ci credevate davvero alla salvezza a quel punto perché ormai erano gli ultimissimi secondi del recupero E' stato un sollievo diciamo quel gol perché alla fine Granata era da forse dieci minuti che si era portato in avanti e erano le palle dell'Ave Maria diciamo quella palla lunga sperando in qualcosa che succedeva lì in aria ed è successo a 20 secondi dalla fine Diciamo anche però che la partita era nata male perché un gol seppur viziato lo ricordiamo da un fallo del Sambiase Sambiase che doveva solo vincere è arrivato dopo 31 secondi questi secondi che un po' ritornano nell'arco di questa partita Sì, ritornano in 31 secondi abbiamo iniziato non male perché alla fine è stata quasi una sorpresa dopo 31 secondi partire già in svantaggio diciamo che ci ha spezzato un po' le gambe però abbiamo reagito e abbiamo trovato subito il pareggio con Barillari quindi siamo ritornati subito sulla strada giusta per cercare di vincere questo play out Poi è arrivato il gol di Gallo, giocatore di certo esperto anche quest'anno vice capocannoniere, uno che non si fa pregare qualcuno l'ha ribattezzato un po' l'Higuain dei dilettanti forse ci sta anche bene il nomignolo e il Corigliano si è ritrovato sotto fino al gol che dicevamo poc'anzi di Capitano Granata che non ha segnato per tutto il campionato ma ha segnato proprio nel play out Nei supplementari poi sembrava un'altra gara Antonio è successo anche lì di tutto e sembrava un po' di rivivere il film dei primi 90 minuti Sì, destino ha voluto che proprio chi non aveva segnato durante il campionato ha segnato nei play out vari Barillari, Granata e Abenand che è entrato dalla panchina I supplementari forse noi avevamo qualcosa in più a livello fisico visto che loro un po' avevano staccato la spina perché erano salvi poi sappiamo tutti il discorso di Irti Socher ha portato il San Biasi ai play out Nei supplementari diciamo a quella voglia che avevamo noi se faccia vedere abbiamo vinto la partita Dicevo anche una sorta di carattere psicofisico e non avevamo dubbi sull'apporto anche del pubblico Antonio ricordando che oltre al gol di Abbenante c'è stato poi il pareggio di Gallo su rigore ai supplementari e il tuo gol sempre su rigore che ha chiuso un po' le marcature il tutto lo dicevamo poc'anzi sotto la spinta di un pubblico che ieri ha offerto davvero il meglio perché ha sospinto la squadra in tutto l'arco della gara Sì, i tifosi sono venuti in masso allo stadio proprio per sostenerci in questo play out Il rigore diciamo chiunque avrebbe battuto secondo me l'avrebbe messo dentro perché con l'aiuto è stato il rigore della squadra diciamo dello staff tecnico, del mister, del professor Marino dei tifosi, di chi era fuori, di chi era in panchina quindi alla fine la squadra ha buttato da dentro sul rigore Alla fine tutti contenti o quasi perché lo vogliamo ribadire anche in questa trasmissione il Corigliano è salvo ma con riserva perché ai noi il Castrovillari non è riuscito in Serie D a guadagnarsi l'accesso al play out contro il Roccella e a questo punto bisogna capire quello che accadrà o meglio attendere il verdetto proprio di Roccella Sarnese che si giocherà domenica prossima intanto fatti dovuti scongiuri nel caso dovesse retrocedere anche in Roccella si aprirebbe un altro play out proprio tra Reggio e Mediterranea che ha vinto l'altro play out con il Cutro sempre nella giornata di domenica e per l'appunto il Corigliano ma di tutto ciò poi ne sapremo di più in merito alle comunicazioni anche del comitato regionale della LND FGC poi ci ritorneremo sui play out perché adesso apriamo la doverosa parentesi sul play off invece di prima categoria direttore un derby, una stracittadina un match vissuto non solo nella giornata di ieri ma nell'arco di tutto il campionato ieri però grazie anche a un gol, a una perla di Sifonetti si è decisa questa gara per una rossanese che secondo il regolamento doveva solo vincere Sì è vero, diciamo che è stato il coronamento di un sogno nel senso che noi avevamo perso i due derby di campionato avendolo giocato benissimo tutti e due come ben sai il nostro campionato è iniziato molto tardi il fatto del ripescaggio quindi abbiamo dovuto fare veramente di necessità virtù il campionato secondo il mio modestissimo parere ha rispecchiato fedelmente quali erano i programmi societari è una società nuova, questo è l'anno zero abbiamo cercato di costruire e fare una programmazione che potesse portare la rossanese diciamo nei tre anni nei campionati che le competono ieri è stata l'apoteosi nel senso che avendo un fuoriclasse come Sifonetti ha tirato fuori dal cilindro un gol spettacolare qualcosa di unico con lice di pubblico delle grandi occasioni mi ricordo quando c'era la Juniores gli ultimi anni un pubblico come numero allo stadio Stefano Rizzo tra l'altro è stata una partita molto corretta molto maschia però fair play da entrambe le parti sia in campo che fuori vogliamo specificarlo perché comunque di fronte sia la squadra di mister Triolo che la squadra di mister Pacino erano due squadre ben attrezzate poi si è inserito in questa corsa il Cassano che ha strappato a entrambe il primato e adesso c'è da giocarsi questa lunga trafila dei playoff che come sappiamo ogni anno è lunghissima però un pensiero così anche agli avversari che comunque dal canto loro si sono giocate tutte le loro chance forse dal canto loro c'era anche questa doppia possibilità sia del successo e del pareggio per passare il turno siete state forse un po' più bravi voi nel segnare nel tutelare proprio questo minimo vantaggio Sì noi abbiamo incontrato secondo me io e dall'inizio del campionato che lo dico la squadra più forte non solo nei gironi della prima categoria ma potrebbe giocare benissimo in promozione dicendo anche la sua ieri abbiamo incontrato ancora una volta una grossissima squadra loro chiaramente avendo il doppio vantaggio vittoria e pareggio probabilmente hanno pensato di fare una determinata gara ma il merito va a mister Triolo che ha dato delle indicazioni ha studiato molto bene la partita non dimentichiamoci che a noi mancavano tre elementi molto importanti noi avevamo fuori senza nulla togliere anche gli assituiti che hanno giocato benissimo ma a noi mancava Sarli per problemi familiari ci mancava Fabio Sessito che era in panchina Villella che era riduce da un infortunio diciamo che siamo siamo stati bravi a capitalizzare l'occasione che abbiamo avuto da entrambe le parti non sono state molte occasioni è stata una partita molto agonistica dove è stato come dicevo prima l'estro di un fuoriclasse che è Giuseppe Sifonetti che ha ripeto ancora una volta ha fatto un euro goal obiettivamente se ne vendono pochi in giro goal del genere con un calciatore che ha dato lustro insieme a tanti altri sia della Rossanese che anche del Città di Rossano che tra l'altro io devo ringraziare per l'ospitalità che è l'organizzazione fatta nei minimi dettagli come dicevo è stata una partita maschia ma sulla farsa liga un fair play sia in campo che fuori abbastanza importante che ha fatto sì che il pubblico di Rossano delle grandi occasioni si sia comunque divertito Certo il pubblico anche in questo caso ha avuto il suo peso specifico se vogliamo comunque ha assistito a una gara forse non leviamo anche il forse non da prima categoria ma di divisioni certamente superiori si apre adesso per voi l'altra fase direttore quella del playoff assoluto in attesa di capire dove si giocherà la data dovremmo invece conoscerla e conosciamo soprattutto un avversario che nomi alla mano è comunque una squadra temibile anche perché se si arriva a un playoff assoluto non si ci arriva per caso hai perfettamente ragione incontriamo il comprensiorio Fiumefreddo una squadra un'altra squadra molto molto forte come dicevi te si gioca domenica 21 la sede ancora non è stata stabilita chiaramente noi andremo a vincere cercando di di arrivare in finale la finalissima per poi giocarcela e puntare a vincere perché la vittoria dà in questo caso perché il discorso che dicevi prima del del roccella coinvolge anche la prima categoria perché se nell'ipotesi del roccella qui auguro tutto il bene del mondo si salva e quindi rimane un posto libero quindi la vincente del 28 salina automaticamente in promozione viceversa se la sciagurata ipotesi non dovesse succedere non si sale direttamente si si attende un ripescaggio che non so fino a che punto possa essere fattibile o meno in attesa poi di quelli che saranno i giochi estivi di fusioni ripescaggio mancate iscrizioni ricordiamo che in prima categoria ci sarà adesso come diceva il direttore il primo playoff assoluto tra la vincente del giorno A del giorno B e la vincente del giorno C e la vincente del giorno D e quindi le due vincitrici di questi di queste semifinali assoluti playoff chiamiamole così si incontreranno poi come ci ricordava il direttore Garo nella finalissima e restando in tema di playoff ricordiamo anche che nonostante un'ottima gara non ce l'ha fatta l'Olimpico Acre di mister Pascuzzo a superare invece l'Amantea nonostante il vantaggio anche in quel di Amantea è finita 1 a 1 dopo i tempi supplementari sarà adesso l'Amantea a giocarsi invece il playoff assoluto e anche qui saremo poi a vedere cosa accadrà domenica prossima nel frattempo si diceva di playoff e destini incrociati tra playoff playout e le varie categorie e aggiungiamo anche che il tifo va anche per chi gioca per i playoff dalle categorie inferiori anche nei confronti della cittanovese che si giocherà invece la Serie D attraverso questi spareggi interregionali in attesa invece di capire poi quale sarà il verdetto anche e il futuro soprattutto dell'isola dopo i fatti di cronaca di queste di queste ore e che avvenire ci sarà dopo aver vinto il torneo il torneo d'eccellenza di questa stagione torniamo alla Corigliano invece c'è questo spettro se vogliamo Antonio di un ulteriore playout che secondo regolamento dovrebbe essere giocato sul campo del Reggio Mediterraneo anche se poi va chiarito se sarà così o in campo neutro ma da quello che ricordiamo dovrebbe essere sul campo del Reggio Mediterraneo per il miglior piazzamento alla fine del campionato regolare sicuramente però c'è questa gara da attendere del Roccella insieme ai compagni nonostante la festa e tutto ciò che ha riguardato il post partita di ieri contro il Sambiase continuerete così ad allenarvi quali sono stati i programmi tra voi e il mister dello staff tutti i campionati dall'eccellenza alla terza quadriglia e tifono Roccella quindi domenica aspettiamo questa partita come la partita dell'anno noi come squadra Corigliano ci rivedremo giovedì per diciamo un allenamento chiamiamolo così e poi aspettiamo la partita di domenica e vediamo cosa succede noi siamo sicuri che sulle tribune dello stadio di Roccella domenica saranno tanti calciatori dirigenti anche delle altre squadre che andanno di certo a tifare Roccella questo è una certezza così che abbiamo per ciò che riguarda questa gara ci dispiace però di certo per il Castrovillari che dovrà ripartire a meno di poi eventuali ripescaggi estivi ma questo è un discorso che dobbiamo rinviare ai prossimi mesi ci dispiace per questa così apparizione fugace in serie D e la celere retrocessione sono già due le retrocesse lo ricordiamo Castrovillari e Sersale attendiamo il verdetto del Roccella e attendiamo tutti gli altri playoff però dobbiamo anche sottolineare a proposito del Corigliano che nonostante tutte le vicissitudini che spesso proprio i calciatori che abbiamo qui ospitato nonostante tutte le vicissitudini sono riusciti a metterci la faccia a scendere in campo e a lottare con tanta determinazione e a far loro questa salvezza con riserva chiamiamola così perché così l'abbiamo definita fino a questo punto direttore una stagione lunga per tutti per voi ancora non è finita si dice che i playoff sono un po' un campionato a sé cosa deve ecco quale marcia in più deve avere adesso la rossanese per essere più scaltra diciamola così rispetto agli avversari che arriveranno sì è un altro campionato perché andiamo ad incontrare squadre allo stesso livello noi dobbiamo giocare come sappiamo giocare con la qualità che abbiamo diciamo che ce l'andremo a giocare tranquillamente nel senso che la rossanese quando inizia a giocare a calcio fa delle ottime partite chiaramente recuperare qualche acciaccato attendere probabilmente avremo qualche squalificato anche per per domenica fa sì che si riduce notevolmente anche il il discorso numerico però chi come dicevo prima chi l'ha sostituito non ha fatto rimpiaggere nessuno anzi noi speriamo speriamo di vinci di arrivare il più tardi possibile magari al mare andiamo più in là fino al 28 anche se fa caldo andremo a giocare poi le vicissitudini che dicevi prima di un'eventuale fusione poi vedremo là in base a comunicati che oggi il presidente Abruzzese ha diramato noi siamo sempre comunque disponibili a parlarne con tutti e creare un'unica squadra che non ha senso obiettivamente a Rossano che ha avuto due squadre due grandi squadre in prima categoria se dovesse succedere questa cosa in promozione sarebbe qualcosa di atipico per non dire altro vediamo come si evolveranno gli eventi augurandoci che tutto possa risolversi per il verso giusto certo il discorso poi delle fusioni dai rumors che riusciamo a carpire in queste settimane potrebbe riguardare non solo Rossano ma potrebbe riguardare anche altre piazze quindi proprio in virtù anche di questo ragionamento di queste ipotesi che si fanno al momento potrebbero esserci anche altri posti disponibili nei campionati di cui parliamo nel corso delle nostre puntate e prima di chiudere questa puntata facciamo proprio un sottolineiamo proprio l'apporto del pubblico che come dicevamo prima sia in un caso che nell'altro sia a Corigliano sono stati fondamentali i tifosi ma anche a Rossano sono stati numerosi sugli spalti rappresentano quel qualcosa in più di uno spettacolo che ai noi nel corso di questi anni è andato un po' scemando e che invece basta un niente per riaccendersi e per così ripopolare proprio le tribune delle squadre cittadine che anche per le cosiddette big dei nostri campionati di serie A o altro spesso vengono un po' messi da parte e ai noi è un po' una sorta di tallone da kill su cui bisognerebbe lavorare di più per riavvicinare i tifosi delle proprie città alle proprie squadre ringraziamo i nostri ospiti sperando di non rivederci per questa stagione Antonio Carroz ciao grazie buonasera con la speranza appunto di parlare di un'altra annata speriamo invece di rivederlo il direttore Rago della Rossanese per continuare a seguire quelli che saranno i playoff di prima categoria grazie buonasera a tutti grazie ovviamente a tutti voi l'appuntamento per le prossime puntate e a presto operazione sport in collaborazione con grazie a tutti grazie a tutti